Internamente benedetto tu sei Signore, ti odiamo, ti benediciamo e ti amiamo e ti ringraziamo, ti ringraziamo felici, felici di averti conosciuto, incontrato, di essere colui che illumina la nostra vita. Oggi è il giorno della candelora, lui è la luce del mondo. Proprio in questa giornata così speciale, accompagnati dalla parola di Luca al capitolo 2, quando parla di Simeone, Simeone è un uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Ecco quindi già in quest'uomo c'era un'aspettativa, un'aspettativa ovviamente in Cristo, in quel Cristo che ancora lui non aveva ancora idea e misura di chi potesse essere e cosa potesse fare, però nel suo cuore c'era una propensione verso di lui. E quindi anche noi abbiamo delle emozioni che muovono la nostra vita, che sono delle aspettative e oggi c'è un invito proprio a ricentrare le nostre aspettative in Cristo, perché quando le riponiamo in Cristo siamo sicuri di avere quella consolazione. La consolazione di Israele è sapere che non siamo mai soli, il consolatore è colui che sta con colui che è solo, quindi la rassicurazione che la nostra vita è decisamente, scusate, è decisamente sostenuta da qualcuno che è con noi, il Dio con noi, l'Emmanuele. Ma la cosa meravigliosa che dice, lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore, mosso dallo Spirito si recò al Tempio. Wow! Mosso dallo Spirito si recò al Tempio. Noi che facciamo un cammino di fede andiamo al Tempio. Cos'è che muove il nostro andare nel Tempio? E' davvero questo Spirito che è uno Spirito d'amore che non solo fa abbramare il nostro cuore di quell'amore che ci muove verso di Lui, ma è proprio attraverso il suo amore che ci attrae, dove c'è sicuramente la possibilità di un incontro che può essere in qualsiasi altro luogo. Non precludiamo la presenza del Signore solo in un luogo, in una realtà. Lui lo possiamo incontrare anche qui nella nostra cameretta, esattamente come ci dice proprio Gesù. Ma in quel luogo abbiamo un'esperienza del suo amore, un'esperienza fatta anche dalla comunione, sia la comunione per noi che siamo cattolici intesa come il suo corpo, il suo sangue nell'ostia consacrata, ma anche la comunione tra i fratelli. Cioè Lui ci attira in una dimensione dove noi possiamo fare esperienza di Lui. E quindi io devo capire perché mi muovo. Vado in chiesa perché ho il senso del dovere, perché ho dei sensi di colpa e devo andare davanti a Dio, devo andare in chiesa perché vado a incontrare i miei amici, devo andare in chiesa perché non so dove andare, perché quello può essere anche un'altra motivazione e almeno esco e vado in chiesa come dice qualcuno. Ma ci sono tanti motivi che ci muovono, ma noi quello che dobbiamo oggi chiedere allo spirito è tanto di farci comprendere cosa ci muove nel suo spirito. Qual è quel movimento interiore che ci porta a vivere le esperienze, quelle esperienze che ci portano all'incontro. Ed è bellissimo essere mossi da un amore che muove a noi per amore, ma nello stesso tempo ci fa muovere perché è come una calamita che ci attrae e che ci porta verso di Lui per fare un'esperienza forte, un'esperienza determinante, un'esperienza che ci consola, un'esperienza che ci rafforza, un'esperienza che ci dà gioia, che ci dà pace, che ci dà orientamento, che ci dà discernimento. Un'esperienza che, insomma, per dirle in parole povere, che cambia la nostra vita. E l'ha cambiata sì nel momento dell'incontro, quando ognuno di noi ha avuto la prima volta che ha incontrato il Signore, ma se io continuo a raccontare quell'esperienza, significa che la mia vera, il mio vero cammino con Gesù ancora non è iniziato. Perché chi è in Cristo, davvero, chi si muove attraverso quell'esperienza, ha ogni giorno una novità da raccontare, ha ogni giorno un qualcosa di nuovo da raccogliere, davvero, in ogni giorno raccoglie quel gusto di vita che Lui è pronto lì a farti conoscere, perché anche ogni giorno noi cresciamo, ci rafforziamo, come anche prosegue questa parola, Lui cresceva e si rafforzava, Gesù, ma anche noi cresciamo e ci rafforziamo. E più siamo fortificati e più siamo capaci di vedere, di ascoltare. Ci sono cose, come dice Gesù, che ancora non siete capaci di comprendere. Ed è così, anche nella nostra esperienza, noi ci accorgiamo che ogni giorno andiamo sempre più in profondità o sempre più nelle altezze, insomma, dove lo spirito ci vuole condurre. Ma ci rende davvero capaci di prendere possesso di una realtà che è altra, una realtà che è la verità. La vera realtà sul quale noi dobbiamo contare è la verità, la verità che Cristo è venuto a manifestarci nella sua persona al 100%. Cioè, diciamo che al di fuori di Lui diventa un pochino difficile e quindi solo se io sto in Lui posso arrivare a una conoscenza della verità, in una verità che oltretutto rende onore alla mia verità, perché noi che gli apparteniamo la sua verità mette luce sulla nostra verità. E quindi, gloria a Dio, perché questo spirito ci muove? E questo spirito ci muove anche quando siamo un po' impigriti, quando siamo un po' arrabbiati, quando siamo un po' delusi, quando siamo un po' messi sulle nostre posizioni, un po' testardi anche, un po' presuntiosi. Sì, sì, sempre. Lui, per questo amore straordinario, continua a muoverci. Sì, e come dice Mimmo, farci crescere in età, sapienza e grazia. E in larghezza, signore, basta, abbiamo già fatto. Però, in tutto il resto, perché questa nostra crescita ci porti ad avere la capacità di gustare la vita, di sentirla proprio, di percepirla in tutte le sue profondità, di percepire la bellezza in ogni cosa, la bellezza in ogni situazione, ma soprattutto in ogni fratello. Cioè, la nostra capacità di trovare questo gusto ci rende davvero come il signore capace di tirar fuori dall'altro il meglio che c'è. Se gli altri vedono tutto il male, questo spirito ci porta a vedere quella cosa bella che davvero è sulla quale si può lavorare, sulla quale davvero possiamo vedere la possibilità in ognuno, non sempre solo in noi, perché così il signore ha fatto con noi. Poi noi magari oggi ci sentiamo particolarmente al di fuori di certi contesti e situazioni, ma noi sappiamo chi siamo. Non ci possiamo nascondere, perché con noi stessi noi sappiamo chi siamo, ma sappiamo anche cosa il signore ha fatto con noi e cosa davvero ha riuscito a tirare fuori. Allora, quindi oggi, come il profeta, noi vogliamo, l'uomo di nome Simeone, vogliamo davvero muoverci, guidati da questo spirito, o meglio, non oggi, ma da oggi. Muoverci in un modo nuovo, in un modo sempre più connesso, sempre più forte, sempre più attaccato a lui, veramente che ci rende così capaci di muoverci verso l'amore, ma anche semplicemente attirati da questo amore che vuole farcelo vivere in toto, in ogni tempo, in ogni situazione, in ogni contesto, perché noi non siamo ciò che stiamo vivendo, noi siamo molto di più e lo scopriremo solo vivendo nella pienezza dell'amore, esattamente come il signore ci conduce a fare. Allora, una buona giornata a tutti, io ringrazio il signore davvero per ogni volta che mi apro un orizzonte nuovo, perché sono come una bambina che, incuriosita, non vedo l'ora di entrare in questo orizzonte, e sperimentare. E la cosa bellissima che ha pagato il mio desiderio di sempre, una cosa che io ho sempre pensato nella vita, di che cosa hai paura? Io ho paura di annoiarmi. La noia è una cosa che mi ha sempre un po' spaventato. Ecco, io in realtà quando sono entrata a fare questa esperienza di fede, non so più cos'è la noia, perché davvero il signore ti apre, come le porte sul computer, da una porta apre l'altra, 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 e continua davvero a riempirti. Tante volte, quando hai talmente tanto, sai che non resti entusiasta delle cose, e dici, mamma mia, quanto c'è? E poi ovviamente le cose che vedi, che senti, che percepisci, vanno comprese, ma questo è un altro discorso. Quanto meno non c'è questa noia, ma c'è sempre questa possibilità di voler sperimentare e davvero entrare ancora di più. Allora, una buona giornata a tutti voi che mi state seguendo adesso, che ascolterà questo messaggio più avanti. Davvero lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito d'amore è l'unico Spirito d'amore. Un abbraccio, tante benedizioni, tanti ringraziamenti, lode, e davvero glorificazione al nostro Signore, che è l'unico così generoso, così straordinario, che davvero non è contento di averci fatto raggiungere una meta, perché noi abbiamo una meta con la M in maiuscola da raggiungere, e finché non è raggiunta, lui non è soddisfatto. benedizioni, grazie, lode, benedizioni a te, tu sei santo, grazie, lode, gloria a te, lode, grazie, benedetto tu sei santo.